Servizio di investigazione è quello che fa anche Control Service, 25 anni, quali sono le attività svolte in questi ultimi 365 giorni da voi? Direi che in quest'ultimo anno abbiamo incrementato notevolmente, soprattutto in due ambiti importanti, quello del controllo sui dipendenti per le aziende e quindi controllo malattia, infedeltà aziendali, furti e sottrazioni. Dove abbiamo diverse squadre impegnate in questo settore, mentre nel periodo estivo aumenta notevolmente l'infedeltà coniugale, dove non vorremmo essere visti come gli spioni, ma un'agenzia investigativa che quest'anno compie 25 anni di attività, fatta di professionisti che svolgono con attenzione il loro ruolo e molto spesso risolvono delle questioni molto delicate, e riescono a far portare il proprio vantaggio al nostro cliente, quindi anche in situazioni difficili dove ci sono affidamenti di minori, piuttosto che altre situazioni sempre molto delicate perché stiamo trattando temi nella sfera personale. È un lavoro questo che aumenta o diminuisce nel corso degli anni? Ma c'è stato un blocco durante il lockdown, ovviamente per quanto riguarda il controllo sui dipendenti, perché con lo smart working ovviamente si rimaneva a casa e per cui aveva poco senso. Quest'anno c'è stato un incremento perché sono quasi rientrati tutti in presenza e anche nelle infedeltà, nelle indagini private c'è stato un incremento perché c'è questo senso di voglia di evadere, di liberarsi, quindi si esce di più, si frequenta in locali, si frequentano persone, quindi sono anche possibilità di conoscenze nuove, quindi ovviamente l'infedeltà aumenta. Abbiamo visto che quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo fatto più 30% in più di indagini. Lavoriamo con grosse aziende a livello nazionale, abbiamo circa una quindicina di aziende nazionali, parliamo di Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Eni, poi alcune diciamo di realtà un po' più locali tra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, dove siamo il loro punto di riferimento per le indagini investigative nel settore gius lavoristico, quindi nel controllo dei dipendenti per poter dimostrare che effettivamente non usufruisce dei permessi legge 104 per accudire il parente piuttosto che vanno al mare o fanno le loro attività ludiche. Per quanto invece riguarda le coppie, quante sono? Quante vi hanno contattato? Facciamo circa 180-200 indagini all'anno, un'indagine media dura un paio di settimane e per il 95% dei casi quando un cliente viene da noi, uomo o donna, aveva ragione di sospettare qualcosa perché poi effettivamente verifichiamo quello che aveva nei suoi sospetti. E' ovvio che la tecnologia ci aiuta molto, i GPS, le telecamere, le microtelecamere sono strumenti che i nostri uomini utilizzano molto bene. Sono più gli uomini o le donne che vi contattano? Diciamo che sono più le donne che ci contattano, un 60-40, anche un 70-30, sono più le donne che decidono di verificare se il proprio partner è fedele oppure no. Grazie. 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 Grazie a tutti.